Il tentato furto in abitazione alle 9 di sera circa di martedì scorso in questo palazzo di via Valerio Laspro a Salerno. I ladri, almeno due ed un palo, hanno facilmente scavalcato questa ringhiera e poi utilizzando questo palo sono saliti al secondo piano dell'abitazione. Hanno tentato di forzare la finestra ma non sapevano che all'interno dell'abitazione c'erano i proprietari, marito e moglie e figli che stavano giocando a Monopoli ed il loro cane che ha iniziato ad abbaiare attirando l'attenzione del padre della famigliola che si è diretto verso il balcone. A quel punto i malviventi se la sono date a gambe rinunciando al colpo. Quanto accaduto ripropone un problema che questa zona della città di Salerno vive da tempo con drammaticità. La vicinanza del parco del seminario infatti rappresenta una via di fuga sicura per i ladri d'appartamento che scelgono dove rubare in base proprio alla vicinanza dei palazzi al parco. Un episodio che ha generato allarme in un momento già di per sé delicato. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine con alcune volanti della polizia a cui sono state affidate le indagini per risalire ai colpevoli che come detto non sono nuovi a scorribbande nella vasta zona nelle prossimità del parco, decine di palazzi e centinaia di abitazioni.